Un vero e proprio arsenale nascosto all'interno del vano ascensore di una palazzina del ferro di cavallo in via Tavo a Pescara. Lo hanno trovato i carabinieri nel corso di un blitz nel quartiere Rancitelli che ha permesso di recuperare una pistola scacciacani con matricola brasa modificata in modo da poter sparare. Una pistola calibro 8 senza matricola e una doppietta calibro 12 con matricola solo parzialmente leggibile. Assieme alle armi c'erano anche 23 cartucce calibro 16 inesplose. L'ispezione è stata fatta in particolare al civico 177 dove i militari hanno iniziato ad ispezionare l'androne delle scale, le scale stesse, il sottotetto fino ad arrivare a ispezionare il vano ascensore dove in passato già abbiamo trovato anche quantità di stupefacenti occultate. Per l'altro è come frequenza e come frequentazione dei noti soggetti che purtroppo conosciamo da tempo. Questo è uno dei palazzi più tranquilli, uno dei civici più tranquilli, più puliti, ragion per cui forse è stata proprio scelto opportunamente per nascondere queste armi perché dava sicuramente meno nell'occhio. Ora tutte le armi saranno consegnate al RIS di Roma alla ricerca di eventuali impronte digitali o di materiale organico da sottoporre a test del DNA e per gli accertamenti balistici. Per ora pistole e fucile non hanno un proprietario anche se sono perfettamente manutenute, sintomo che quel nascondiglio dell'ascensore fosse frequentato in maniera assidua dalla malavita del quartiere. Siamo molto fiduciosi sugli accertamenti che effettura il RIS sia dal punto di vista balistico per vedere se queste armi hanno già sparato in passato, sia dal punto di vista biologico per vedere se verranno rinvenute tracce di DNA, quindi saliva, manipolazioni varie e soprattutto i ridevi dati telescopici per vedere se verranno fuori delle impronte digitali censite.